Buongiorno, ecco il prodotto. Sono delle tisane che vi dico subito sono piuttosto amare e teoricamente non vanno zuccherate e spero che sappiate che questo tipo di prodotto non è una bevanda buona da bere, ma è una bevanda del benessere quindi non sarà mai dal punto di vista del gusto dolciastra o comunque piuttosto gradevole anzi normalmente più è amara e meno piace e più fa bene